buongiorno a tutti oggi 17 settembre siamo nei boschi dopo 15 minuti troviamo questo nero bello 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 va bene a dopo a un altro nero un altro bel 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 nero Un altro schiacciato, tutto scrupolato, mi dispiace, a dopo. Un altro Airus. Un altro Airus. Un altro Airus. Un altro Orcino. Eccoci qua, questo è bello, gambo lungo. Bello, bello, pesante bule. A dopo. Un altro. 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 un altro un altro siamo saliti un altro bocciolotto esce fuori va bene? è più tardi ammazza è cresciuto con la radice partiamo anche la radice a casa che fa? ecco un altro bocciolotto ecco l'altro qua un altro qua c'è un altro ancora questo non so no non è buono un altro bocciolotto 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 uno un altro bocciolotto uno due tre tre quattro cinque cinque sei sette otto e uno fanno nove aereus anzi secondo me sì un altro il decimo dieci neri dieci neri aereus 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.